Oggi sono iniziati i saldi via gli acquisti o ci ha pensato prima? In realtà prima, però qualche occasione ne approfittiamo. Quindi comunque li aspettavo? Sì, comunque li aspettavo per qualcosa di nuovo, per qualche occasione, per risparmiare un po' più che altro. Compra sempre i saldi, non c'è problema, sì sì sì, non si può comprare prima, come si fa? Un po' prima e un po' oggi, perché chiaramente i saldi fanno gola spendendo un po' meno. Le percentuali come le vede? Basse oppure giuste? Sono al 30%, oggi ancora basse, però insomma saliranno. È giusta sul 30%, pure il 50% se conto. Il budget è cambiato rispetto agli altri anni? Beh, insomma. Si cerca sempre di spendere di meno? Sì, sì. No, più o meno rimane quello, diciamo che se trovo qualcosa di interessante lo prendo, altrimenti rinuncio. Ha più o meno uguale. Non è cambiato? No. È la giornata degli acquisti perché sono iniziati i saldi? Li aspettavo? Sì, li aspettavo, sono qui proprio per quello. Budget è più o meno, è cambiato rispetto agli altri anni? È un pochino meno, purtroppo sì, un pochino meno. Come trova la percentuale di sconto? Buona, mi accontento. Quindi si aspettava questa giornata? Sì, sì, l'aspettavo con ansia. È l'occasione buona, è la giornata giusta. Quindi aspettava questa giornata? Sì. Non l'ha acquistato prima? No, assolutamente no. Budget è diminuito rispetto agli altri anni? No, no, in base alle esigenze che uno ha, senza esagerare, è quello di cui si ha bisogno. Via i saldi, via gli acquisti? Sì, abbiamo aspettato proprio questa giornata per poter risparmiare un po' sul prezzo, visto che, diciamo, sulle grandi marche riusciamo a risparmiare molto. Come vede la percentuale di sconto? Sì, è sempre la solita, dal 30 al 50% è sempre un ottimo risparmio. A poche ore dall'avvio dei saldi, come sta andando? Stiamo andando bene, siamo partiti poche ore fa, quindi ancora è tutto da vedere, però un po' da flusso c'è. Chiaramente i saldi partiamo un giorno, il martedì, un giorno lavorativo, quindi non è che tanta gente lavora, dobbiamo ancora tastare un po'. Domani c'è la Befana, la festa a Befana, quindi è festa. Sarete parti? Sì, saremo aperti l'arri continuato, pure oggi noi facciamo l'arri continuato, perché proviamo a stare aperti pure nella città, a cercare di fare un po' un movimento. Domani è una prova vera, perché è festa, magari perché gli altri anni siamo partiti sempre di sabato, e quindi sabato, sai, c'era... Rispetto agli altri anni, oggi come è partita questa giornata? Positiva oppure c'è meno gente? Ma, ripeto, c'è gente, per quello che è, c'è gente.